Secondo Veronesi, il testamento biologico può essere inteso come un'estensione logica del concetto di consenso informato. Volevo chiederle qual è la posizione della legge italiana in questo momento sul testamento biologico, se ci sono delle sentenze che riguardano questo tema, e anche magari spendere due parole per spiegare esattamente di che cosa si tratti, perché c'è molta confusione su questo tipo di documento. Allora, finora abbiamo parlato di un consenso o un dissenso di una scelta espressa consapevolmente da un paziente cosciente e capace di autodeterminarsi dopo essere stato informato rispetto alle cure. Ci si è posto il problema di tutte quelle situazioni che la moderna medicina sta creando sempre più spesso, nelle quali si interviene in via di urgenza perché arriva in ospedale un malato in stato di incoscienza, si cerca di dargli tutte le terapie che siano utili e opportuni, ma a un certo punto non si riesce a ridargli la coscienza e si creano situazioni che poi sono situazioni croniche e non sempre, a cui non sempre si accompagna la coscienza, tra cui lo stato vegetativo. Ma vi sono altre situazioni nelle quali, come la malattia di Alzheimer, a un certo punto del decorso naturale si perde la capacità di decidere. Ci si è posto il problema di dare anche a questi soggetti la possibilità di far conoscere la propria voce. L'unico modo è consentir loro di fare delle dichiarazioni anticipate di trattamento, cioè di scegliere ora per il futuro che cosa si gradisce che in una determinata situazione clinica venga fatto o non fatto. Questa scelta si può fare evidentemente all'interno di una redazione di cura e quindi è una scelta informata da parte del medico e sarebbe l'opzione migliore, ma si può fare anche liberamente in base alle proprie conoscenze acquisite attraverso la lettura di vari dati. Che veste formale deve avere questo documento? Allora si discute molto se debba essere per forza fatto per iscritto, se debba essere fatto per iscritto davanti a un notaio, per atto pubblico o scrittura privata, autenticata, oppure ancora possa essere fatto in modo verbale. Ancora non c'è una normativa? Normativa precisa non c'è. L'importante è essersi posto questo problema e aver cominciato a pensare a una strada attraverso la quale riconoscere questa autonomia. in attesa che il Parlamento intervenga e intervenga nel rispetto della Costituzione, la Cassazione, la giurisprudenza prima di merito e poi della Cassazione ha cominciato a affrontare alcuni casi. Per esempio il caso di Eluana, che va storicizzato. Quando è accaduto l'incidente di Eluana negli anni 90, inizio degli anni 90, poco si conosceva della figura del testamento biologico. E quindi in quella situazione si è dato valore anche alle testimonianze raccolte dalle amiche della volontà di Eluana rispetto alla condizione nella quale si trovava. Perché Eluana l'aveva espresso in quanto un suo amico si trovava in un'analoga condizione. Oggi che si discute probabilmente sarà più frequente il caso delle testimonianze scritte o anche di atti pubblici. Il vero problema è che io mi posso trovare in ospedale, in una situazione nella quale sto perdendo la coscienza e posso anche comunicare verbalmente all'Equip le mie volontà che poi potranno essere, per esempio, trasferite, documentate nella cartella clinica.